Sì, siamo stati operativi da subito per cercare di ripristinare la situazione nei punti più critici del paese. Qui è un'artere dove ci sono residenti più di 40 persone e stiamo cercando di rendere l'accesso libero. Sì, grazie a Dio non è successo il reparabile, ringraziamo per questo il Signore. Secondo lei perché succede questo? Succede questo perché fondamentalmente adesso non c'è il clima più di una volta, adesso ci sono queste famose chiamate bombe d'acqua. Quindi mi sembra che in un'ora è sceso 90 centimetri d'acqua, non lo so se è una cosa possibile, non c'è terreno che può reggere questo flusso di acqua e quindi succedono queste cose. Abbiamo subito danni che se ne è sceso praticamente un bel po' di sabbia, abbiamo dovuto sistemare il chiosco che non era più in asse a livello. Abbiamo fatto un bel lavoro, tutto da soli, anche l'anno scorso, due anni fa, sempre qua arriva. È proprio una questione della zona fatta male. Poi quest'anno hanno fatto i marciapiedi nuovi, il comune che aveva preso una convenzione però... e ci hanno detto che la pendenza era fatta al contrario, scendeva verso la strada, però quando c'è il pieno, c'è il pieno e arriva sempre di qua. Sì, perché quello è il livello della strada. Guarda, io sono vecchia ormai, però non ho visto mai un disastro così, mi è entrato nei garage della Nazionale ed è venuto fin qua. Grazie. 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 Grazie.